Luca Tremolada Luca Tremolada Bailado A Modena nel mio posto preferito Starshop Tanti anni da quando ero ragazzino In tv c'era Dragmol, One Piece, Detective Conan E mille altri anime Emozionante Sorprendente Allora, Zoro lo diamo a Falcinelli Sanji lo diamo a Gerli Chopper, che era mascotte, la diamo a Giovannini Brook, lo scheletro Tutto storto, alto Tutto strano, lo diamo ovviamente A Ponzi Mi manca Jimbei, quello saggio E quello saggio lo diamo a Tommaso Silvestri Frenki, che è il Carpentiere della Churman So darlo solo a Luca Magnino Zoe è una donna incredibile La mia compagna di viaggio E con lei troverò il One Piece sicuramente Anzi, probabilmente l'ho già trovato E sarebbe un personaggio ancora che non c'è Tanti, bello, è la mia soddisfazione più grande riuscire a far giocare i miei compagni È sempre stato uno sport che mi appassiona È molto più di un amico e gli auguro il meglio No vabbè, Kobe è Kobe Però a me Stephen Curry è talento puro e mi fa sempre emozionare vederlo giocare Un giocatore ma un personaggio, proprio una leggenda Cos'è quelle persone che anche solo vederle in video ti faceva emozionare Il film che ho visto di più nella storia l'avrò visto penso una cinquantina di volte Dal momento che ho comprato la prima Jordan non ne ho più fatto meno L'airmag Sì, ho una stanza apposta Entri e invece di esserci un letto Gira tutto intorno la stanza Gagno forte, mi batte quasi sempre Hip hop R&B Nessuno dei due? Dai, ballare dai Anche se ogni tanto al karaoke sono forte Per me non esiste per dirti una scarpa elegante ma sotto un vestito una Jordan sempre comunque Qua c'è un elenco che non finisce più Però ragazzi Gerli è una roba... mamma mia Fabio Gerli Gagno Tutti hanno capito quanto ci tenessi a prenderla Quindi non ci sono state aste e nessuno si è messo in mezzo Il mio preferito, il Mudo Vasquez Richelme Ronaldinho Non era un 10 ma era diciamo di maglia ma è un 10 che è Guti Vabbè Messi lo metto da un'altra parte, non c'entra niente rispetto agli altri Quindi è Iniesta, un 10 per me Metto Pereira Ernesto Torregrossa Da calcio d'angolo qualche anno fa Andate a vederlo così vedono che sanno calciare Palermo-Brescia È stato veramente importante per la Serie A Il Ducato Supremo è Pietro Radori Perché la parola Doggy nasce da lui Perché è il suo soprannome quando gioca Una tradizione chiamarci così e allora da Doggy può diventare Doggato, Doggame Potete stravolgere il nome come volete Supremo a tutti i possibili livelli Le mie passioni ho Jordan, le Sneaker, i personaggi di One Piece e Dragon Ball Il mio tempo libero in questo momento è la mia community di One Piece con cui parlo Costantemente tra teorie varie Sto facendo un corso di sommiglie del vino, è una mia grande passione Sono sempre stato uno a cui piaceva un bicchiere di vino durante le cene Dato che volevo saperne di più, ha fatto il primo livello A me è piaciuto tanto No, 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 a casa c'è la mia cantinetta formata da 10-12 vini Che basta, avanza anche perché il vino va bevuto Ma... rosso? Ok Grazie a tutti Grazie a tutti